se vuoi tutti mi occupiamo, muoviamoci di qua so come evitarli vieni so come sono i tuoi quelli quelli che rimangono perché credi che mi sia rivolta a voi di qua ma perché adesso? ce ne stavamo tranquilli progettavamo di abbandonare la città ma serviva un capro espiatorio ci provocavano e ci sono riusciti stiamo cercando di difenderci Joel, dammi una mano qui ehi, come va? vivrò stop soldati quella è l'uscita la porta sotto il ponte non sono un fan di queste eminità possiamo passare in silenzio ma che se non è il vostro stile vediamo come va andiamo arriviamo a quella porta io prendo questo la giustizia non aspetta soldato chi se ne prega bene, silenzio bene ok attenzione bene Non mai più rivederci. Mi piace guardarti in attimo. Se mi uccidi, non ne esci vivo. Non mi uccidio, non mi uccidio. Forza. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Come stai? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Ma è poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabandare? Vi faccio vedere. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Già, il thumb è una mano. Stai lontano da lei! Lasciala andare! Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda! Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ali, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il dubbio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me. Così ferifichi le armi. E io mi faccio ricocere. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà, potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla Galleria Nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo? E tu, stammi vicino. Grazie.